Ciao a tutti, sono Dario Marchetti, sono qua con Lucio Cecchinello e Gianni De Matteis per ricordarvi che c'è un evento molto bello ad Arma di Taggia una possibilità per i bambini e le bambine di imparare a guidare la moto in sicurezza grazie agli istruttori, degli istruttori federali della Federazione Motociclistica Italiana e dei Carbinieri, un evento molto bello in combinata viene allestito un circuito ad Arma di Taggia ed è una bella occasione Guidare in sicurezza è tutto, noi lo facciamo assolutamente sempre in pista e non vedo il motivo per il quale non bisogna farlo per strada è un'opportunità per capire come si può guidare una moto capire i trucchi per cercare di rimanere il più lontano possibile dal pericolo insieme a della gente molto qualificata e degli esperti piloti mi raccomando, non mancate, primo settembre ad Arma di Taggia